Io sono Aris Lunias, cari amici di Lightboat, vi aspettiamo a Rodi per visitare la nostra splendida isola. Siamo la quinta destinazione in Europa, troverte storie, cultura, tradizioni e un mare di calda ospitalità. Sulla nostra isola potrete viaggiare sicuri e liberi di muovervi alla scoperta delle più belle destinazioni. Arrivederci a Rodi. Grazie. Grazie.